Un gruppo numerosissimo quello della passione in una penna, giornaliste, poete, scrittrici, militanti. Si va da Nera, scrittrice non proprio femminista, per arrivare a Dante Merini, passando per Camilla Cederna, per Brunella Casperini, per Fernanda Pivano, citando anche Margherita Salfatti, che comunque era una grande penna per tutti i giornali con cui ha collaborato, per arrivare ad Anna del Bobo Fino, indimenticabile personaggio milanese, donna che ha fatto moltissimo sulla battaglia per la parità e per le pari opportunità in questa città. Abbiamo voluto ricordarle perché non sono le uniche, ovviamente, perché come sempre in questa galleria fotografica, in quella che è diventata una galleria fotografica, tutte non le potevamo mettere. Abbiamo voluto mettere le più significative, sempre perché nate a Milano oppure milanesi d'adozione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!